buongiorno a tutti le amiche e gli amici di bianconera news di radio bianconera il tema della settimana la juventus continua a vincere continua a restare in scia dell'inter che ha demolito l'udinese per quattro reti a zero la juventus ha avuto la meglio in un altro scontro diretto del napoli con il gol l'ennesimo di gatti arrivato già a quota tre reti ed è il terzo marcatore stagionale se non vado errato della squadra bianconera insomma la juventus che non gioca benissimo che però è molto solida e sfrutta le poche occasioni che crea quindi cosa farà la juventus dove arriverà la juventus dobbiamo solamente veramente attendere perché il 15 23 e 30 non sto dando i numeri ma sono le ultime tre partite prima della fine di quest'anno solare 2023 il 15 venerdì contro il genoa il 23 contro il rosinone fuori casa e poi l'ultimo scontro altro scontro diretto contro la roma il 30 di dicembre finite queste partite scopriremo il vero obiettivo della juventus per ora per ora continua a vincere e quindi tutti i giudizi vanno in questo momento sospesi ebbene è chiaro che la juventus dovrebbe creare di più dovrebbe segnare di più tutto giusto tutto vero però finché continua a vincere intanto godiamoci queste vittorie perché per il futuro ancora c'è tempo quindi aspettiamo queste ultime tre partite e vedremo il reale obiettivo della juventus in questo campionato un saluto ci vediamo settimana prossima ciao